guardando a me dai mi si io poi adesso lo faccio vai 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 mi riesci a pingarmi? sono l'altra morto proprio qua solo per ammazzarlo io dove? mi sa che pushano... mi sa che rimanino in là si, qua qualcuno rumore in ufficio uno è... uno è in pv Ashes si Ashes è qui va bene apriendo il muro qua aperto il muro ancora in sicure si via si via si via si si, ora sto pingando ora sto pingando ora sto pingando merda ho visto il testo ancora lì, guarda me stanno entrando da sopra si 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 vicino... si ho pingato non lo so morto uno ok c'è il dirone si si senti rumore qua dove hai detto nini il dirone mi sta da basso eri 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 è bene da me? si, l'ho ucciso morto bedakal morto è mite deciso in corridoio morto è non ho capito perchè il carattere è verso per il ps grazie non è fuori in orbite questo è Ashes morto fused non so però vissute le fuzzate non so neanche come ve lo giuro c'è un'altra c'è un'altra due in armory ok guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì non ha un'altra guarda lì morto guarda lì anche lui anche questa zona guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì era qua il corridoio qua perfetto come al solito erano preso niente con campan si c'è doc rompo lo scudo scade doc scade bianche 30 secondi morto doc quando mi ha ucciso era in granaio controllo dietro ma che cazzo ma guardate cosa ha fatto no sempre freezer nomad lo puoi rompere allora si aspetta what si entra ve lo dico no no ma hai visto come è scoppiato so so infatti perché è baccato la banderia forse non vedo niente morta la banderia no ma era in freezer si è ancora in freezer no no mi sto segnando via niente no ancora lì ancora lì no 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 qui qui non c'è mi è mi è se si mi non on fu ok 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 eh attento attento dov'è che posso andare non lo so sono maestro morto maestro vai a tirare un bancone vai a tirare un bancone qui sono in due qua sono solo loro dove sono rimasti eh dov'è che sono? qua davanti da secondo uno dei due non faiare un'altra aspetta che faiare un'altra adesso io faccio il coglione fa sparare hai visto? è morta Kali Kali è morta Kali è morta questo è l'ultimo non è l'ultimo qui fuori ovvero vieni 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 sta tornando church e l'altro è sempre in blu nel corridoio sì sì stavano da sopra io ehm c'è church guarda scala guarda scala cazzo 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 forse dietro al mobile può essere forse dietro al mobile morto morto occhio può essere la calemona la calemona bravissima bravissima l'attenzione si usano i thionini perché mi traccava jackal perda mi ha ammazzato la cosa ciò che ha colpito doveva provare a difendere un po male è morto BANN1 è in grado blu occhio esattamente lì davanti a me No, no. Mi tracca Jackal. Sono in due. Sono in due. Sono in due. Sono in due. Già hanno zero. Sono in due. Sono in due. Mi tracca, mi tracca, mi tracca. Non ha più, eh? Sono in tre sotto. Sotto? Guarda dritto. Devi aiutare Debbie perché sotto ci sono già Lorenzo e Gabri. Ma cazzo proprio c'è ancora qualcuno. Cantiere pulito. Vieni dove non puoi vedere. Vedete, ve li guardo io. Io vi guardo cantiere. Onestamente non sta pulendo un cazzo. Garage? No. Non lo so. Sei arrivato a bar o chiuso il bar? No, no, no. Il ping non è niente. Non vedo niente. In garage non vedo niente. No, non ce l'ha capo. Non l'ho fatta. Bar, forse. O esterno. Vai! In garage, in garage, in garage, in garage, in garage. Dove? Cattolo. Non lo so. Questa è nuara. Io sono sotto la bottola. È chiusa, è chiusa. Vai, aperta. È aperto anche il granaio. Io sono in cucina. Scendo è morta. Cacca di più buono in casa. È ancora sopra? Letti libero. Mi fazzonata. Mi fanno sopra anche io. Morto. Ok. Buono. Betta, betta. Non risai ti va. Vai. In la lavanderia. Qua si scende, Regine. Apremela. Fallo. Eh, morì, è senzino. Mi risai. Sì. Buono, si è spostato. Non è più sopra. Morto. Non è più te. Mi drono. Ti tengo l'angolo lungo. Era la lavanderia prima. Era. No, c'è la lavanderia. Sì. Metà vita, più o meno. Blanco. Mi spottano 100. Mi spottano. Mi spottano. Ti sta spottando qua. Porto, back. Va. Che call, madonna. Blanco, eh. Blanco, flanco. È va bene. Possiamo flancare il video. No, 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 non flancare. Ormai. Non mi hanno dronato. Non è tutto flanco. Sei partito. Oh, c'è qualche cam che vede il... Ho capito. Abbiamo flancato insieme. Dove, dove? Dimmi, dove è che devo più... Il giardino. Stava flancando. Bravi, bravi. Che è andato? L'abbiamo flaccato il 2. È.